Una ventina di persone appartenenti al comitato di lotta ex Taverna del Ferro, il rione di case popolari nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, ha occupato l'ufficio del sindaco Gaetano Manfredi nel palazzo del consiglio comunale di Via Verdi a Napoli. I manifestanti chiedono che in previsione dell'abbattimento della palazzina e della riqualificazione della zona venga garantito il diritto alla casa di tutte le 360 famiglie che a partire dal 2014 hanno richiesto e ottenuto il bollettino mensile per il canone d'affitto che viene regolarmente pagato anche se nel contempo viene negata la residenza. Ma soprattutto si chiede che vengano anche sanate le posizioni di quelle 50 famiglie che in maniera abusiva hanno occupato delle abitazioni all'interno del rione. Rosaria Licciardi, portavoce degli occupanti, ai nostri microfoni spiega il perché di questo gesto. Questo gesto mira ad avere prima di tutto un colloquio con il sindaco direttamente perché senza nulla togliere alle altre persone con cui ci siamo confrontati noi vogliamo parlare con il sindaco direttamente e che lui si prenda la responsabilità e ci garantisca che tutto questo possa accadere. Noi vogliamo la regolarizzazione di quella minima parte degli abitanti e stiamo parlando di una cinquantina di nuclei familiari che diciamo tra virgolette non sono in regola, non sono legittimi assegnatari. Sono persone che hanno occupato questo alloggio perché per necessità, persone che non si sono potuti permettere un pigione alto di 400-500 euro al mese affittando una casa privata e si sono ritrovati che hanno trovato queste case libere e vuote e le hanno occupate. Persone che hanno all'interno di questi nuclei familiari disoccupati, persone disabili con tutte le necessità e quindi ad ora noi chiediamo una deroga che ci garantisca l'assegnazione di queste persone, di questi nuclei familiari. Ad oggi, ad un mese che iniziano i lavori, noi non abbiamo certezze che a queste persone venga assegnata un'abitazione anche in modo provvisorio, non definitivo, però noi questa certezza non ce l'abbiamo.